La promessa di una più ampia sociabilità realizzabile per via automatica, con un click, coglie un bisogno primario profondissimo, non meno essenziale del bere, del mangiare o del vestirsi, il bisogno di legami. È su di essi del resto che riposa la vera ricchezza sociale, quella ricchezza che il modo di produzione capitalistico aliene e traveste con abiti di denaro. Cosa ci può essere di più sottilmente attraente in una società che ha smarrito l'esperienza e il senso della comunità reale e nella quale le relazioni personali, corrose dall'ipocrisia, sono afflitte da salute cagionevole, quando non già morte prematuramente? La prospettiva offerta dai social network di investirsi in comunità virtuali in cui il proprio alias può permettersi di recitare al soggetto senza troppo impegno offre un'alternativa ideale alla pesantezza dei vincoli contratti nelle dinamiche istituzionali. Nelle community virtuali la reinvenzione di sé può spingersi lontano, fino alla frontiera su cui la libertà personale, ubriaca di sé, smarrisce i limiti. A crescere gli amici, fare gruppo, fare comunità, sono frasi fatte, offerte col pacchetto dalle piattaforme che sostengono la messa in scena pubblicitaria di internet come luogo di incontri e nuove opportunità di stare insieme. Pubblicitaria è astutamente paradossale perché più si parteciperà a queste effimere aggregazioni connettive, meno si farà vita di relazione nel tempo e nello spazio dei corpi. Da questi luoghi virtuali i corpi sono radicalmente estromessi e debbono inesorabilmente abdicare a favore dei loro fantasmatici e a volte anonimi avatar, i quali possono prendere vita soltanto picchiettando sul tastiere o manifestandosi su uno schermo piatto. Il miraggio della maggior sociabilità agisce inoltre sul piano delle attese. Promette incontri a misura delle fantasie più riposte e dei sogni più intimi. Insinua la speranza che dietro a un dispositivo elettronico ci sia, anch'essa intrepidante attesa, proprio la persona giusta. Ma la sociabilità, ovvero la disponibilità a stabilire con gli altri un qualche tipo di relazione umana, non si lascia convertire nella moneta debole delle connessioni. Per andare oltre a se stesse e alla loro fredda impotenza, le connessioni dovranno necessariamente lasciare il posto alle relazioni, all'incontro dei corpi e dunque ad altri contesti, linguaggi interpersonali, atteggiamenti, scambi simbolici e pratiche di comunicazione in presenza. Dovranno rinunciare alla dimensione dell'assenza del virtuale.